Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di The Last of Us Allora siamo sempre in viaggio per accompagnare Ellie, il pacco cosiddetto, fuori dalla città e stiamo incontrando un pochettino di resistenza per così dire Tanti infetti, tanti infetti in questa zona e la strada è lunga disgraziatamente quindi bisogna andare con cautela e nella scorsa puntata ho avuto anche qualche problema a sconfiggere un gruppo di infetti Allora ora aspetto che passi Ok, di coltello però ne ho solo uno, dannazione Cioè, ne ho visto un altro Oh, che miseria Puttana Eva, no, no, quanti sono? Oh mio Dio No, ok, è un disastro Sono di nuovo tantissimi Ben fatto Ho capito io Sì, ben fatto, ma lì c'è un altro clicker e quasi quasi cerco di andarlo a prendere Allora, quanti sono? No, ce n'è un altro ancora lì Dannazione Dov'è che è? È lì dietro Aspettiamo che passi Quell'altro dov'è che è? No, è quello Si fa i cavoli suoi più o meno Vabbè, io ci provo No, gira di qua Che palle, dov'è che va? Proviamo di qua Allora, lì c'è uno che Lì c'è uno che proprio vorrei fare a meno di incontrare Ok Ha girato ed è entrato qui dentro, ok Adesso piano, piano Piano Piano, piano Due sono fuori Ora sono rimasti I due clicker lì dentro E non sarà semplicissimo Temo Affrontarli Passiamo dalla finestra Eh, ho capito Piano, piano Oh, cacchio Ma ce n'è anche un altro Mamma mia Mi fate Purtroppo Dai, mi hai C'è un problema però Ho finito i coltelli Come faccio? Ma è un clicker questo? Sì che lo è Ah, che cavolo Come faccio? Vabbè Forse riusciamo a passare inosservati Cristo santo Quanti sono? Sono tantissimi La mia domanda però è Anche Dove bisogna andare? Perché Fermati tu Con la torcia Dannazione Io non ho più coltelli Come faccio a ucciderli? E oltretutto Il Il tubo con cui picchiavo le persone È praticamente rotto Vabbè Ragioniamo un attimo Magari Con un po' di astuzia Riesco a passare Inosservato Ok Qui c'è un bastone Molto bene Meglio di niente E qui forse c'è qualcos'altro Vediamo un po' Biglietto per Derek 3 3 43 78 È una Combinazione Di qualcosa Magari c'è una cassaforte qui Non è che mi dispiacerebbe Sto sempre cercando di capire Se riusciamo a passare Inosservati Questo sta tornando qui Quello però non dovrebbe essere un clicker Ok Perfetto Cosa c'è? Un cavolo di niente E siamo tornati Al punto di prima Mi sa Abbiamo lo stesso problema Ma quello è piuttosto lontano Ragazzi Io ci provo Da questa parte Siamo quasi fuori Merda Ok Piaciuto eh? No 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 Come si esce? Come si esce? Come si esce? Giù Non dovrebbero vederci Madonna Ce n'erano altri due È strano che non ci vedano In tutta onestà E devo sparare Piano E giù Ma dai Dannazione Nooo Proprio l'ultimo Dannazione Dimmi che non devo recuperare Tutto quanto Ti prego Oh mio dio Nooo Va bene Rifacciamo Ok ragazzi Eh Ho utilizzato le molotov E sono state veramente una svolta Cavolo Eh Veramente Fighissimo Ok Vediamo se riesco a prendere qualche altra risorsa O cose del genere No Solo mattoni e bottiglie Dannazione Ok Ora La cosa curiosa è Eh Io ero qui no E questa È Ok Siamo quasi fuori Ma esattamente Tra l'altro ho ancora due coltelli E non dovrebbero esserci più Mostri del cavolo qua Compenso qua ci sono un po' di cose Vediamo un po' Eh no C'è solo una cavolo di bottiglia Inutile Domanda Dov'è che si esce? Esattamente Perché Mi viene da pensare che No Ah va Mica l'avevo visto Su forza Vai piccola Ok Adesso ti prego Basta infetti Per un secondo Tutto bene? Sì Andiamo Vedo che ve la cavate abbastanza bene Si chiama fortuna E prima o poi finirà Da che parte Tessa Il palazzo del governo è da questa parte Ok Vabbè Siamo più vicini Comunque Come superiamo il camion Vediamo cosa troviamo Beh non gli puoi salire sopra come hai fatto finora Passiamo attraverso la casa Sì Ecco qua Per l'appunto No ho solo una molotov e non la voglio Non la voglio usare Manco per il cavolo Tutto bene Eh la fregna di mamma è da pure Ci siamo Significa che ce ne sono altri qui Sbreghiamoci Ok Va bene Tutto bene Salite D'accordo Direi che va abbastanza bene per ora Ok Ok Direi che ci siamo Ok Ok Hai qualcosa sulla scarpa Che schifo Che schifo Serio Ok ci risiamo Ok Come usciamo da qui Ora lo scopriamo Così Marlene pensa tu sia immune Beh questo lo dice lei Allora aspetta Se hai incontrato un infetto nella zona vuol dire che sei andata dove non dovevi Sì Sono scappata di nascosto Ero nel collegio militare Sei scappata? Volevo 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 esplorare la città Ho incontrato un infetto nel centro commerciale L'accesso è vietato Come accidenti hai fatto entrare? Beh Ho i miei segreti Comunque uno di quei runner come li chiamate voi mi ha morso e tutto qui Capisco Eri tu Marlene quando ti hanno morso? No Le ho chiesto aiuto soltanto dopo Conoscendola è già tanto che non ti abbia sparato Stava per farlo Spero stia bene Te l'ho detto Lei ce la caverà Ok Se non altro adesso Ho qualche potenziamento Cos'è? Gli integratori migliorano le tue abilità di sopravvivenza Cioè Vabbè poi lo vediamo Per adesso Vediamo un po' di qua Grazie Un maledetto proiettile Uno Ho sempre paura che Spunti fuori qua Niente Ecco questo Già meglio Voglio Voglio esplorare tutto Però penso di aver finito Mi pare strano che non ci siano infetti qui Ma merda Grazie Ok Ok Esplorare Esplorare Servono le risorse qua E come se servono Come diavolo a far Come diavolo a far Sono vivo Trovo Il modo di arrivare Arrivano Tess Corri Ah cavolo Sì beh le devo aiutare Oh E questo Oh ma di qua Ok Tess Perfetto 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 Molto bene Ma sono già in questa parte Sì Sto arrivando di qua Ma dimmi che non giri di qua Ehi 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 Ma che vuol dire Ma io il coltello ce l'ho Sì E allora Vabbè Sapete che ti Che vi dico Tiro un po' il mattone qua Ah lo devo prendere alle spalle E uno è andato Merda Niente da fare D'accordo Cristo santo Che palle E uno è andato Ho ancora un coltello E non ho Purtroppo Tubi o Bastoni o qualcosa Non ho armi bianche Dannazione Non è bene ciò Lo sto portando dietro Spolloriamo un po' Vediamo se È possibile Trovare qualcosa qui Non posso semplicemente evitarli Non sarebbe male come cosa Ecco che ne arriva un altro Dimmi che non gira di qua Oh Ok Ciò è bene Il bastone dovrebbe Bastare per uno Di loro Cavolo 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 Uh corri 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 Ma c'è quest'altro Ma c'è quest'altro Sono sicuro Sono sicuro Sono sicuro Sono sicuro Via 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 Ok Mi sono messo al sicuro Va bene Ok Se riesco a prenderlo Furtivamente Quello là Ho fatto Qualche volta si muovono in maniera imprevedibile Dannazione Ecco tipo adesso che si è girato Dannazione Ma è possibile Mi ha sentito? No niente Ok Ok Purtroppo Non ho più neanche il bastone Certo che ecco Avere un'arma bianca più prestante Questo sì che sarebbe utile Ok è fuori portata No Via Vabbè Sono riuscito a evitarlo Se Dio vuole È un clicker No Sto bene Ragazze qui dentro La ragazza Portalo Lasciala stare Lasciala stare Usa corsa veloce alle 1 per scappare Accazzottate Accazzottate Sono tanti Sono tanti Sono tanti Aiuto E io sono ridotto Una merda Aspetta Aspetta Per un pelo davvero Vabbè La cosa positiva È che non ho usato coltelli Non ho usato munizioni Bene così Oh merda Tess Tutto a posto? Solo un po' di fiatone Di qua Arriveremo sul tetto E tu piccola? Tutto bene? Che intendi per bene? Ma respiri ancora? I rantoli di paura valgono? Sì Valgono anche quelli Ok Allora sto bene Ok Proseguiamo Un attimino Troviamo come andare di là Ecco È quello l'edificio Eh A me sembra sempre Più lontano Sì l'ho vista Però adesso Fatemi esplorare Ancora un pochetto Dietro Fai attenzione a dove metti i piedi Sarà un po' Beh È tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto Certo che La vista è spettacolare Andiamo Di qua Ehi Sbrighiamoci Ci siamo quasi Non distrarti Sì signora Sì signora Eh beh D'accordo ragazzi Allora Abbiamo visto un po' di tutti i colori Questi maledetti infetti Io odio i clicker È già Definitivo Secondo me Va bene ragazzi Direi che per oggi È davvero tutto E con Odio i clicker Direi di chiudere questa Puntata Che è stato un pochettino Rocambolesca Però alla fine Ne sono venuto a capo Mi raccomando Come sempre Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E ci vediamo La prossima volta Ovviamente Lasciate un like Se questa Serie vi piace Se questo video In particolare Vi è piaciuto Alla prossima